In questa puntata di Unicam News, ricercatori Unicam scoprono due nuove molecole nel vino. Il mese di giugno inizia con due importanti eventi, Unicam Fest e il bello di Unicam. Al via la collaborazione tra Unicam e la TechPol SRL. Seminario di formazione ad Unicam sul cruscotto di indicatori Anvur. Ben ritrovati all'appuntamento settimanale di Unicam News. Avete sentito i titoli? Allora partiamo subito dal primo servizio. Importante scoperta targata Unicam. Il dottor Giovanni Caprioli, ricercatore della Scuola del Farmaco e dei Prodotti della Salute, e il dottor Massimo Ricciutelli, responsabile del laboratorio HPLC di Unicam, hanno identificato e quantificato due nuove molecole nel vino. Si tratta dell'acido 3-isopropil malico e dell'acido 2-isopropil malico. Il lavoro di ricerca condotto in collaborazione con l'Università di Urbino e l'Istituto Zooprofilattico di Umbria e Marche, è stato pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica internazionale Food Chemistry, rivista top del settore della chimica degli alimenti. Le due nuove molecole che abbiamo identificato e quantificato per la prima volta nel vino si chiamano acido 2-isopropil malico e 3-isopropil malico. Sono dei derivati dell'acido malico, che è un acido organico bicarbossilico presente in alte concentrazioni nel vino, responsabile del gusto e dell'aroma del vino stesso. Di queste due molecole si conosce ben poco, però essendo molto simili all'acido malico potrebbero essere estremamente interessanti sotto tanti punti di vista, in particolare da un punto di vista organolettico, considerando anche il fatto che sono state da noi quantificate a concentrazioni elevate, parliamo di 30 mg litro nei vini rossi e 20 mg litro nei vini bianchi. La prospettiva futura è quella di aumentare il numero di campioni di vino da analizzare, valutando se è possibile correlare i livelli di queste due molecole con l'invecchiamento del vino, quindi l'anno di produzione, col tipo di fermentazione, con il grado alcolico e se queste molecole possano impattare sul gusto e sull'aroma del vino stesso. Per ora c'è molto da studiare, diversi aspetti da investigare, però siamo estremamente soddisfatti di questa scoperta importante da Gata Unicam e del fatto che il lavoro, questo studio è stato recentemente pubblicato da una prestigiosa rivista scientifica internazionale che è Food Chemistry, che è la rivista top del settore di chimica degli alimenti. Questo studio dà una risposta a precedenti lavori fatti da altre università finalizzati alla determinazione di composti polifenolici e acidi organici nel vino. Questi studi evidenziavano la presenza di una sostanza di cui non si conosceva la struttura chimica. Attraverso l'analisi cromatografica abbinata alla spettrometria di massa e utilizzando quindi delle strumentazioni denominate liquido a massa siamo arrivati all'identificazione di una miscela di due isomeri costituzionali, cioè due molecole che hanno la stessa formula molecolare ma diverso posizionamento degli atomini nella struttura chimica. Quindi grazie alla strumentazione ad avanguardia che disponiamo presso i nostri laboratori siamo riusciti a identificare l'acido 2-isopropilmalico e l'acido 3-isopropilmalico in tutti i vini presi in esame. Circa 60 tipologie di vini diversi scelti fra rossi, bianchi e spumanti. Di fondamentale importanza per questo studio è stato l'utilizzo della spettrometria di massa ad alta risoluzione, una strumentazione in grado di misurare con alta accuratezza il peso molecolare fino alla quarta cifra decimale. Il mese di giugno inizia per l'Università di Camerino con due importanti iniziative. Dal 7 al 9 giugno sotto la direzione artistica del poeta e paesologo Franco Arminio si terrà Unicam Fest, il primo festival paesologico marchigiano. Poesia, musica, performance ma anche eventi per riflettere, discutere e divertirsi saranno al centro della Tre Giorni di Camerino. Cuore del festival saranno le conversazioni che Arminio avrà con Fabrizio Barca, Giovanni Lindo Ferretti e Brunori Sars. Dal 10 al 14 giugno invece si terrà la seconda edizione di Il Bello di Unicam, una settimana di incontri e conferenze fortemente voluta dal rettore Claudio Pettinari dedicati alla valorizzazione delle eccellenze dell'Università di Camerino. La giornata inaugurale sarà dedicata alla contaminazione tra i saperi, mentre filo conduttore della giornata conclusiva sarà Il Bell'Ambiente e saranno presentate le iniziative di Unicam per la sostenibilità ambientale. Le giornate centrali saranno invece dedicate alle scuole di Ateneo. Tutte le informazioni e i programmi degli eventi sono disponibili nel sito www.unicam.it. È stato firmato oggi in Ateneo il protocollo di intesa tra l'Università di Camerino e la Techpol SRL di Morro d'Alba in provincia di Ancona, azienda che opera da oltre 40 anni nel settore dello stampaggio ad iniezione di materie plastiche volto all'avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo di attività formative, di ricerca e di consulenza. È un rapporto, quello che andiamo a consolidare oggi, estremamente importante perché ci consentirà di lavorare su diversi aspetti, da quello della formazione, dove insieme interagiremo probabilmente con un nuovo dottorato di ricerca, a quello della ricerca applicata, dove cercheremo di trasferire parte del know-how presente in Unicam all'azienda, all'impresa, proprio per avere dei prodotti di qualità che renderanno l'impresa sempre più forte nel panorama europeo. Abbiamo già discusso ciò che l'azienda fa e come noi possiamo intervenire, ma dall'azienda abbiamo già ricevuto tantissimi altri stimoli proprio per pensare anche a nuovi prodotti, a nuovi materiali che in questo momento non sono sul mercato. Io dico che è vietato fermarsi, quindi bisogna sempre andare avanti, cercare sempre cose più difficili da fare, da produrre, trovare soluzioni alternative, magari quelle che ci sono, magari impattando a livello ecologico meglio di quell'attuale e questo è il nostro obiettivo, quindi è poter, io non dico crescere all'infinito, però mantenere quello che già stiamo facendo, cerchiamo di farlo sempre nel meglio possibile, e questa è la nostra filosofia. Siamo molto orgogliosi di poter collaborare con l'università perché comunque ne verrà fuori veramente un capolavoro, anche proprio perché crediamo nelle nostre risorse, soprattutto nei dipendenti e soprattutto nelle loro menti. Per noi è una cosa nuova perché TechPol è il primo anno che fa questo, quindi vediamo come faremo dei piccoli passi e poi vedremo, poi magari sarà il primo di una lunga serie. Tutto sta a iniziare, come si dice. Il cruscotto Indicatori Anvur, uno strumento per il monitoraggio e l'autovalutazione, è stato il tema del seminario promosso nell'ambito di Unicanforma, un ciclo di seminari voluti dal prorettore alla didattica, professor Luciano Barboni. L'incontro, diretto principalmente agli attori del sistema di assicurazione della qualità, quali direttori delle scuole di Ateneo, responsabili dei corsi di studio, manager didattici, membri del presidio di qualità, membri dei gruppi di riesame, ha visto gli interventi in qualità di relatori dei funzionari Anvur Alberto Ciolfi e Giampiero D'Alessandro, presenti anche rappresentanti di altri Atenei italiani, segno dell'importanza di tali tematiche. L'iniziativa ha lo scopo di approfondire i contenuti di uno strumento che l'Ammur ha messo a disposizione recentemente agli Atenei italiani, che riguarda una serie di indicatori utili e necessari ai fini della valutazione della qualità delle attività didattiche svolte. Questo strumento è disponibile da circa un anno, ma in questo periodo non abbiamo noi avuto modo di approfondire. Abbiamo ritenuto opportuno invitare coloro che lo hanno inventato, che lo hanno pensato e messo a disposizione. Abbiamo comunicato agli Atenei vicini questa nostra iniziativa e con una certa sorpresa, devo dire, c'è stato un riscontro notevole. Abbiamo Atenei toscani che sono collegati in streaming, abbiamo tutti gli Atenei marchigiani presenti, Università di Perugia, Università di Teramo, Università di Chieti. Quindi il successo è significativo. Evidentemente abbiamo toccato un tema che stava a cuore a molti Atenei. Bene, finisce qui questa puntata settimanale di Unicam News. Vi ricordo che tutte le informazioni relative all'Ateneo le potete trovare sul sito www.unicam.it. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie per la visione!